Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Gamers e qui è sempre il mio canale, Gamers è il mio canale, oggi torniamo su, anzi benvenuti su Minecraft Parkour, un video, ho visto un video che mi è, ho visto un video di SuperDrago, pericolosi iscrivervi anche al tuo canale, si chiama SuperDrago e 64 iscritti, e oggi faremo la serie di Minecraft Parkour che ho costruito io, oggi, alla fine ovviamente ci sarà una cosa festeggiando se ce la faremo ragazzi, allora per incominciare direi di il letto toglierlo però, lasciamo, via, allora, già partiamo male perché se cadiamo nelle ragnatele è la fine, Questa se l'ho vista brutta eh, qua sono atterrato ragazzi, qua Devi fare così, ottimo C'è un rumore quando salgo sulle scale No! 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 Emo come faccio? Vabbè, almeno mi muovo velocemente Io toglio il video, raga, perché non voglio spiegare minuti Ok ragazzi ce l'ho fatta Non potete sapere Quanto sono difficile Passare da là Faccio quel blocco di arancione Fino qua Poi c'è Mi ero bloccato tra questi due blocchi Un casino Ok vabbè ma Guardate Guardate si è fatto di qua Guardate Visto si bug Non è posto proprio Ok ragazzi Ce l'ho fatta ad arrivare fino a qua Ma solo fino a qua Ok No perché l'ho fatto questo Perché l'ho fatto questo salto Perché l'ho voluto fare Perché l'ho voluto fare questo salto Ma io cado Lo sapevo C'è attiva Pazzoni che prendi giù Allora questo qua era troppo cattivo come salto Quindi ne metto uno qua Mi sembra pure giusto Perché era troppo cattivo questo salto Poi quando diventerò più esperto Raga Però ho qualcosa in più Ora però almeno posso stare più sicuro Ok Questa la vedo brutta Sì l'ho vista brutta Abbastanza brutta Che attiva Imposizioni Ragazzi io taglio 3 2 1 Vabbè me lo senti Basta Basta Minecraft Ti odio Ragazzi non sapete quanti tentativi ho fatto Forse 10 11 Non sapete quanti tentativi ho fatto Ma Mamma mia Sono stanchissimo Però per fortuna Abbastate a questo livello Ok mi sono già fatto male Che novità Ok questo qua E' il più semplice per adesso No No Che stupido Ho sbagliato Io non sono abituato Con il joystick di Minecraft Non sono abituato di più Con il joystick di Minecraft E ma Come io mi shifto E non ci caso Mamma mia Ecco questo qua Cioè ci sono questi Che non so nemmeno perché Li faccio Cioè non so nemmeno perché li faccio Ragazzi Certi Di questi Cioè io proprio Sono proprio uno stupido Perché Non so perché Li faccio Quando so che sono Ho un cubo fino Mamma mia Mamma mia Però E che cavolo però Ok ragazzi Sono arrivato qua Mamma mia Ho tolto il rumore Che poi ho scoperto Che bastava pure Fare così No Ok ragazzi Dopo un sacco di tempo Sono riuscito Ad arrivare qui Per fortuna No Mamma mia Quanto lo vediamo questo Questo ragazzi Era quello che avevo di più Questo Questo E Oh Shiftati Per favore Ragazzi Il mio sogno si è avverato Sto riuscendo a fare il parco Oh no No Il mio sogno non si sta più avverando Ma io sono in creat Perché ragazzi Avevo fatto La creative Nettiamo solo ragazzi Che vado a dormire Ragazzi Ragazzi Non dite niente Ma Qui ci sono arrivato con Difficoltà Dimmi che ce la faccio Si ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sì 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 Vai 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 L'ho messo io Sì Che belli Sì 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 Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Abbiamo completato Il parkour Più difficile Io ragazzi Ritorno Non lo faccio Va bene Lo sapevo Non ci riuscivo a farlo E mo Se ci riesco Lo faccio pure Che è successo? Lo faccio pure normalmente Facendo velo vedere Fin qua ragazzi Ho fatto Tutto di fila Tutto Fin qua L'avete visto Da qua in poi Avete cominciato A non vederlo più Sentite ragazzi L'importante È che ce l'ho fatta Ehm Devo mangiare No raga Allora ragazzi Il prossimo video Di minecraft Si baserà Su Che cercherò Di trovare Il tempo segreto Nascosto Dai villager Perché Si può trovare L'ho visto Il video di super drago Cercate super drago Sett'ora fa Ha fatto 8 Ha fatto un video Mi raccomando ragazzi Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Delle notifiche Così potete Ricciare tutti quanti i miei video E da Gamer007 Out Ciao